Lo spopolamento della montagna che ha caratterizzato questa valle ma come grande parte delle valli alpine ha contribuito a un aumento esponenziale dei grandi ungulati e che hanno trovato le caratteristiche ambientali ideali per potersi sviluppare. Qua in Val Boianco è stata una delle prime valle solane dove sono arrivati i cervi e hanno trovato le caratteristiche ambientali ideali sia per il periodo estivo sia per il periodo invernale perché una caratteristica tipica proprio del cervo sono i grandi spostamenti che fa tra i pascoli estivi e le zone di svernamento. Qua a Boianco abbiamo avuto la fortuna di avere quella oasi faunistica attiva ed è una zona che è stata prescelta come area di bramito per la specie. Il bramito è appunto questo rituale amoroso che avviene tra la metà di settembre e la metà di ottobre tendenzialmente nei primi giorni di ottobre quando i maschi riproduttori si scontrano tra di loro per acquisire questo harem di femmine quindi quel gruppetto di femmine che devono essere accoppiate. Quindi è così definito perché in quel periodo il maschio emette un verso tipico che si chiama appunto bramito un vocale diciamo così che dimostra la potenza dell'animale non tutti i maschi bramiscono, sono quelli che sono pronti per l'accoppiamento i giovani maschi tendenzialmente in quel periodo vengono isolati se solo osano avvicinarsi al gruppo delle femmine vengono prese a cornate dai maschi dominanti succede che a parità di forza i maschi dominanti entrino in battaglia e a volte si arrivi anche a causarne la morte bisogna tenere conto che per esempio in questa oasi di bramito agli ultimi conteggi noi arrivavamo a oltre il centinaio di animali in pochi ettari di territorio. Solitamente scelgono una zona che assomiglia molto a un anfiteatro dove le femmine si radunano al pascolo e questi maschi continuano a circoscrivere il gruppetto delle femmine e a darsi battaglia tra di loro fino al momento in cui il maschio vincitore ha la possibilità di accoppiarsi con questo gruppetto delle femmine il numero delle femmine è sempre molto variabile dipende dalla densità della popolazione in quella zona possono essere due o tre femmine come sette o otto anche tranquillamente terminato il periodo del bramito lasciano una zona di estivazione e si spostano progressivamente verso le zone per superare il periodo invernale la posizione presente qua a Boianco dà anche la fortuna di avere una localizzazione ideale per poterli osservare perché basta mettersi di fronte quindi versante verso campo si è a distanze notevoli ma con strumenti ottici si possono fare sicuramente fotografie sicuramente riprese sicuramente osservazioni senza creare nessun disturbo diverso è entrare proprio all'interno dell'area fermo restando che bisogna avere delle precauzioni quindi mantenersi a distanze importanti non entrare mai all'interno per magari il gusto di fare delle fotografie ravvicinate perché creare un disturbo all'interno di un'area di bramito qualunque esso sia un disturbo da parte dell'uomo significa in pochissimo tempo creare l'abbandono di quella zona il cielo è una popolazione molto sensibile quindi se viene disturbata soprattutto in quel periodo abbandona quell'area e difficilmente per anni ritornerà andrà a cercare un'area adatta altrove e questo per una vallata come la nostra sarebbe sicuramente un danno enorme perché vorrebbe magari dire che la prossima area di bramito vanno a costituirla in Svizzera e non più dalle nostre parti quindi si spostano totalmente grazie a tutti